Ciao, sono Valentina e oggi voglio parlare di pelle grassa e come andare a ridurre il sebo sulla pelle. Ora vi farò una piccola descrizione, una piccola parte di teoria e poi vi do i miei tre consigli per cercare di contrastare questo piccolo problemuccio. Sappiamo molto bene che l'alimentazione è fondamentale anche per la cura della nostra pelle, quindi bisogna fare anche molta attenzione quando andiamo a mangiare perché ci sono purtroppo certi cibi, certi ingredienti che si dovrebbero evitare, anche per andare a contrastare la pelle che si va a ingrassare in modo eccessivo. Pensiamo sempre che i carboidrati siano una sostanza un po' dannosa, ma non è sempre così perché dobbiamo ricordarci che i carboidrati sono un ingrediente anche di frutta, miele, latte, zucchero, cereali, patate e legumi. Tra questi la categoria più dannosa è quella degli zuccheri, che sicuramente hanno molti effetti benefici, ma un eccesso di essi purtroppo può andare a influire negativamente sul benessere della pelle. Questo problema si chiama glicazione e diciamo che l'ho studiata appositamente per voi, anch'io ero ignorante in materia, però come vi dico sempre è molto bello e importante informarsi, formarsi, capire anche come sono fatte le cose, che cosa ci può danneggiare e che cosa ci porta beneficio e in questo caso ho scoperto, come voi magari adesso, che questo processo di glicazione porta a rovinare la nostra pelle perché va ad alterare l'elasticità, causando cedimenti cutanei e purtroppo mancanza di tono. Detto ciò, si arriva purtroppo all'invecchiamento precoce cutaneo. Ricordiamoci che comunque la glicazione è un processo naturale, fisiologico, che se controllato dal nostro organismo non produce alcun danno. In presenza invece elevata di zuccheri ovviamente non è molto favorevole e chi ne risente di più il nostro derma. Ricordiamoci però che non solo gli zuccheri vanno a muovere questo processo, ma bisogna stare molto attenti anche alle cotture dei cibi che andiamo a mangiare. Ad esempio, attenzione alla cottura in forno, su griglia, la frittura. Per farvi un esempio, terra terra, quando andiamo a mangiare il pane sicuramente è più dannosa la crosta, la parte più scura rispetto alla mollica. E adesso arriviamo ai tre consigli che vi voglio dare per contrastare questo problema. Prima di tutto, e questa direi che è una regola un po' generale, mangiare frutta e verdura. Sia cruda che sia cotta, meglio cruda. Limitiamo le fritture, i condimenti troppo speziati. Gli ingredienti che aiutano tantissimo sono la curcuma, cannella, origano, zenzero. Preferiamo i prodotti integrali rispetto a quelli raffinati. Non a bevande gassate, zuccherate, ma questo penso che lo sappiamo già un pochettino tutti. E poi ovviamente andiamo a eliminare gli zuccheri dove sono in grande quantità, come ad esempio nei gelati, nelle torte, nei dolci, eccetera, eccetera. Purtroppo più zuccheri significa più sebo sulla pelle. Io però ho trovato i prodotti giusti per curare al meglio la pelle. Sto facendo una skin care routine molto molto specifica per quanto riguarda la mia pelle, perché sto facendo un trattamento super personalizzato. Mi sono composta la mia box, il mio trattamento di due mesi, dove all'interno c'è la crema giorno, la crema notte, il detergente e il siero. In più, oltre a questo, vado anche a fare almeno due volte a settimana le maschere, perché sono molto molto importanti. Vanno a eliminare la pelle che abbiamo in eccesso, la pelle morta. E questa funzione si ha grazie alla maschera esfoliante. Poi c'è la sebo equilibrante, che è proprio specifica per andare a eliminare il grasso in eccesso. E poi vi stavo appunto dicendo della box che è personalizzata, perché sono andata a creare i miei booster specifici per pelle grassa. Ad esempio, per quanto riguarda la crema giorno, ho inserito il sebo regolatore e il minimizzante pori. Per quanto riguarda quella notte, sono andata a inserire anche il booster decongestionante. Nel siero ho inserito tutto ciò che mi aiuta a eliminare la grassezza. E poi, per quanto riguarda il detergente, che è quello che va poi alla fine a preparare il volto a tutto questo trattamento, sono andata ad inserire il booster esfoliante per anche qua andare a eliminare l'eccesso, il grasso, il sebo. Il booster poi ristrutturante e ovviamente il sebo regolatore. Vi posso assicurare che facendo tutto il trattamento nel giro di poche settimane vedrete già la grande differenza e sarete super felici perché so che tante, purtroppo, giustamente, non si sentono bene se non hanno una pelle a posto. Anche solo nel rapporto sociale con gli altri possono sentirsi un pochettino più a disagio perché hanno appunto questo problema della grassezza, dell'eccessivo sebo. Prima di tutto, buona alimentazione, che questo è fondamentale per tutti i tipi di problemi che possiamo avere. Come vi ho detto, cerchiamo di eliminare gli zuccheri, anche se tutti noi li amiamo e a volte non sappiamo neanche dove sono inseriti. Informatevi bene, proprio perché dovete curarvi, dovete volervi bene. E poi, cosa importantissima ovviamente, è fare la giusta skin care routine perché magari già state utilizzando dei prodotti, delle creme, dei detergenti, dei sieri ma possono non essere specifici per la vostra pelle. Ecco perché vi dico di provare questa linea Uology perché è personalizzata e il bello è che potete andare a fare anche subito il test della pelle che trovate sul mio sito www.princessinbeauty.com ma se volete vi guido io, basta che mi facciate sapere così anche per interesse personale c'è un breve test vi vengono chieste le vostre abitudini, la vostra pelle com'è come vivete, l'ambiente in cui siete, quanto dormite tutte cose che servono per capire la vostra pelle perché la vostra pelle è come è e poi si può andare a studiare che cosa andare a inserire all'interno dei prodotti che vi ho mostrato nella box per qualsiasi cosa sapete che io sono sempre qua a disposizione mi piace potervi essere d'aiuto, potervi dare anche dei consigli se volete una consulenza personalizzata, gratuita io sono qui per voi, basta che vi palesiate vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video se vi è piaciuto spolliciate ricordatevi sempre di lasciarmi un feedback perché ci tengo moltissimo e nulla, io vi do un bacione ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao!